Buonasera, vediamo subito insieme quali sono i titoli dell'edizione di oggi. Cagnoni in commissione, la fiera ha retto bene alla crisi ed è in grado di aiutare il Palace, ma restano aperte diverse questioni, nessun accenno all'indagine aperta dalla procura sui conti del Palace. Incendio doloso ad impianto di frantumazione di Ponte Verucchio, di proprietà della cooperativa Braccianti Riminese, si indaga in ambiente NoTav, che ha rivendicato il gesto con una scritta sulla parete dell'azienda. Ponte di Via Coletti, un progetto da 2,6 milioni, consegna a giugno lavori affidati alla cordata, formata dalla riminese CBR e dalla Cesenate GED. Calcio presentato alla stampa all'esterno offensivo panamense Eric Herrera. Spero di fare meglio di ricchiuti. Problemi con le finestre e con la sicurezza? Se vuoi andare sul sicuro, non rischiare! Chiedi una soluzione agli specialisti della Navac Infissi, al servizio del cliente da oltre 100 anni. Approfitta anche del risparmio fiscale fino al 65%. Della Navac Infissi ti puoi sempre fidare! Ben ritrovati in studio. La fiera dunque ha retto bene alla crisi e oggi è in grado di sostenere parte dei problemi del Palace. Lo ha detto questa mattina in commissione consigliare il presidente di Rimini Fiera, Lorenzo Cagnoni. Ma restano diverse le questioni aperte, oltre alle minori risorse dei soci pubblici, anche le royalties, i canoni e le aree da alienare. Nessun accenno invece all'indagine aperta dalla Procura sui conti del Palace, notizia di questa settimana. Cagnoni premette che il firistico porta un indotto, diretto e indiretto, di 7-800 milioni l'anno. Il congressuale è 360. In totale il 12-15% del PIL provinciale. Il Palace è costato 101 milioni al netto del contenzioso con la Cofeli, per il quale si potrebbe arrivare a sentenza nel 2016. Oggi del debito restano 85 milioni, dei 28 milioni del mutuo della società del Palace col Monte dei Paschi ne restano 27, dei 46 del mutuo di Rimini Congressi con Unicredit ne restano invece 42. Una situazione che non si può non definire preoccupante, ha detto Cagnoni. La fiera invece nei sei anni di crisi, dal 2008 a oggi, chiude con un dato positivo di 1,4 milioni. La posizione finanziaria negativa è scesa da 37 a 16 milioni. Per il 2014 si prevede un attivo al netto delle tasse di 2,6 milioni, che potrebbe appunto contribuire al sostegno dei conti del Palace. Ci sarà da rivedere il piano finanziario. Rispetto alla previsione di un milione di royalties dagli alberghi, ci si è fermati a 300 mila. E poco più di un milione è anche il canone annuo che convention bureau, gestore del Palace, ha chiesto di dimezzare. Per il 2013 il CDA della società del Palace ha detto di no, riservandosi la decisione per i prossimi anni. I nuovi piani finanziari di società del Palace e Rimini Congressi, società costituita dai soci pubblici nel 2006, ha spiegato l'amministratore di Rimini Holding, il professor Lago, saranno propedeutici alla redazione del nuovo accordo, che dovrà essere approvato in consiglio in primavera. Per il futuro Cagnoni non esclude ipotesi come l'incorporazione di convention bureau, o TTG, nella società madre Rimini Fiera, resta la questione delle aree da alienare, in particolare quelle della vecchia fiera, per le quali Rimini Fiera si è resposta per 14 milioni e mezzo, una partita in ritardo e che va risolta entro il 2014, rivalisce Cagnoni, anche se il mercato non aiuta. Previsto residenziale e commerciale, come parte di interesse pubblico, l'auditorium è stato sostituito dalla nuova piscina comunale, tutti d'accordo sulla necessità di privatizzare, ma Lago e Cagnoni spiegano, servono valutazioni congrue, no a svendite. Nessun accenno in commissione all'indagine della procura, al momento non ci sono elementi su cui esprimere opinioni, dice Cagnoni ai cronisti. Il presidente della fiera racconta anche di essere stato disposto a lasciare il suo incarico prima della scadenza nel 2016, ma che poi la complessità delle questioni aperte lo ha convinto ad arrivare in fondo. C'è stato un attentato incendiario nella notte all'Emir S.P.A., un impianto di frantumazione a Ponte Verucchio di proprietà della cooperativa Braccianti Riminese. Un atto doloso che potrebbe essere ricondotto ai movimenti no TAV che con una scritta su una parete dell'azienda hanno rivendicato l'azione. La cava fino a quattro anni fa era di proprietà di un'importante azienda impegnata nella costruzione della TAV, poi è stata venduta alla CBR. I carabinieri stanno indagando per risalire agli artefici che sul posto hanno lasciato anche un contenitore con liquido infiammabile. I vigili del fuoco hanno impiegato due ore per spegnere le fiamme, due mezzi sono andati completamente distrutti, ma le conseguenze potevano essere più gravi. Non sono infatti stati attivati gli inneschi sotto le macchine operatrici che avrebbero completamente bloccato la produzione. In attesa di conferme sulla rivendicazione, il presidente della provincia Vitali parla di un fatto grave e clamoroso, mentre il sindaco di Verucchio Pruccoli di un attentato vile, inaccettabile e preoccupante. Questa gente, scrive, deve sapere che da noi queste pratiche non albergheranno mai e devono saperlo perché glielo deve dire forte e chiaro l'intera comunità. Incidente sul lavoro intorno alle 13 alla fiera di Rimini, dove un 31enne egiziano durante l'allestimento degli stand per il SIGEP è caduto da una scala a circa 4 metri d'altezza. In un primo momento il ragazzo dipendente di una ditta del milanese sembrava in buone condizioni, ma dopo circa mezz'ora è stato colto da un malore alla schiena ed è stato ricoverato agli infermi. La prognosi è riservata, ma non corre pericolo di vita. Sul posto Carabinieri, Ispettorato del Lavoro e ASL. Dai primi rilievi sembra che a causare la caduta sia stato un urto accidentale provocato da un montacarichi in manovra sulla scala su cui si trovava il 31enne. Sono anche in corso accertamenti per verificare se il lavoratore fosse in regola. A marzo si abbatte e a giugno ci sarà il nuovo ponte. È l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Rimini per il ponte di Via Coletti che da mesi mostra segni di preoccupante cedimento. Prima dell'abbattimento sarà anche realizzato un ponte ciclopedonale. Non sarà un ponte Bailey provvisorio, ma un ponte vero e proprio a sostituire quello di Via Coletti che non ha più gli standard di sicurezza. Sarà una struttura a due corsie con ai lati una pista ciclabile e una pedonale. Ad aggiudicarsi la gara, con il 5% di ribasso sui 2.600.000 euro a base d'asta, è stata l'accordata formata dalla riminese CBR e dalla Cesenate GED. Tra un mese saranno consegnate le aree e indicativamente all'inizio di marzo il ponte sarà chiuso ed abbattuto. La consegna, se i tempi saranno rispettati, sarà giugno. Prima però dell'abbattimento, per evitare di dividere in due la città, sarà costruito un ponte ciclopedonale a tre campate, costo stimato 270.000 euro. Una soluzione di continuità tra coloro che devono attraversare nord-sud e sud-nord i punti di riva bella. Soprattutto abbiamo pensato ai flussi di traffico ciclopedonale per le mamme che devono portare i figli a scuola. Nei prossimi giorni saranno fatti incontri anche con i responsabili del trasporto pubblico e con i taxisti per ragionare sulla mobilità della zona. Per finanziare l'intero progetto la regione metterà a disposizione 822.000 euro. Si è parlato, ah ma sarà un ponte post bellico di ferro, bels, no. La prima risposta dei dirigenti è stata se lo devo chiudere devo trovare una soluzione, piuttosto anche provvisoria, ponte belli. Noi abbiamo detto no, troviamo delle risorse, ci siamo attivati. Mi sono attivato personalmente per trovare dei soldi attraverso la regione, la protezione civile, soldi del comune, soldi della protezione civile, gara d'appalto, riva bella, avrà un ponte, un signor ponte, un ponte dignitoso. Molti hanno raccontato frottole, hanno lavorato sulle preoccupazioni dei cittadini, noi abbiamo risposto con i fatti. Oltre al ribasso d'asta del 5%, quindi 100.000 euro in meno, abbiamo anche una proposta di 30 giorni in meno rispetto ai tempi previsti, invece di 150, 120. Crediamo che all'inizio di marzo, proprio i primi giorni di marzo, saremmo in grado a ponte ciclopedonale montato di arrivare all'abbattimento dell'attuale ponte. Restiamo in tema di viabilità. Il Comitato di Santa Giustina oggi ha fatto il punto e spiegato perché è contrario alle nuove soluzioni avanzate dall'amministrazione sulla viabilità di Santa Giustina. Annuncia inoltre un esposto alla Procura per fare chiarezza sulla sospensione del precedente progetto del 2011, su cui enti pubblici e privati hanno lavorato per tre anni. Prendiamo atto di quanto proposto, ma non siamo d'accordo e proseguiamo la nostra battaglia. Si riassume così la posizione del Comitato di Santa Giustina rispetto alle soluzioni avanzate dall'amministrazione per la bretella che dovrebbe alleggerire il traffico pesante verso il biodigestore e in generale in tutta la zona. Il Comitato ripropone la validità del progetto del 2011, quello che prevede cioè l'innesto con la rotatoria dopo San Martino andando verso Rimini, nel punto in cui la via Emilia ha due corsie. È ormai chiaro che via Fiumicino e via Carpinello sono inadeguata al traffico di mezzi pesanti, quindi vanno chiuse. Nel merito ancora c'è una strada esistente che c'è fisicamente da oltre 30 anni, addirittura in alcuni tratti è stata asfaltata, che costeggia il fiume Marecchia. Vero, è in zona vincolata, quella sì, non la circonvallazione, che è in zona vincolata. Bene, la si usi, la si destini ai mezzi pesanti, si utilizza il tratto già fatto da era per andare sulla via Emilia, si faccia la rotatoria, quella strada non porta via oggi un metro di terreno agricolo. Alle consuete forme di protesta e la raccolta firme, ora si aggiunge un blog con la documentazione sulla vicenda e la petizione online su www.firmiamo.it slash 28.000, dove 28.000 sono le auto che ogni giorno attraversano Santa Giustina. Ma rispetto al passato il Comitato annuncia anche un esposto alla Procura per fare chiarezza sulla sospensione del precedente progetto, quello del 2011, su cui enti pubblici e privati hanno lavorato per tre anni. Per tre anni, Comune di Rimini di Sant'Arcangio, la provincia, società autostrade, impegni finanziari, incarichi tecnici eccetera, gli organi consigliari che hanno lavorato, senza motivazione, secondo noi, si abbandona quel progetto. Chiediamo alla Procura di verificare se ci sono i presupposti, se ci sono delle responsabilità. Ieri mattina Polizia Municipale e Guardia di Finanza hanno chiesto agli uffici del Comune di Rimini gli atti sulla ruota panoramica. Nessuna inchiesta in corso, ma una semplice richiesta informativa. Lo ha confermato ieri in Consiglio Comunale l'assessore Biagini, spiegando che l'amministrazione non ha niente da nascondere e che già era stata inviata agli organi di Polizia Giudiziaria la comunicazione dell'istruttoria. Se la vicenda avrà rilevanza penale non lo si può sapere, ha spiegato Biagini, ribadendo come sia stato correttamente seguito l'iter per la conformità amministrativa al momento della richiesta della sanatoria. Dall'assessore è anche una secca smentita a chi ha accusato l'amministrazione di fare figli e figliastri tra ruota e bagnini. Ci sono 16 casi di concessioni in sanatoria allo sportello unico che stanno per essere rilasciate, ha spiegato. La delibera per la concessione alla ruota è stata approvata con 15 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti. Più incidenti ma meno gravi. E' in sintesi questo il bilancio sulle strade riminesi della Polizia Municipale che nell'ultimo anno è tornata a presidiare il territorio 24 ore su 24. Questa mattina a tempo reale è stato ospite il comandante del reparto mobile della Municipale, l'ispettore capo Maurizio Garutti. 1.503 incidenti di cui 4 mortali, 1.147 i feriti. Sono i dati 2013 dei sinistri rilevati dalla Polizia Municipale di Rimini. Sono in aumento più 11%, erano stati 1.344 nel 2012. Il trend degli ultimi anni era stato in diminuzione, ma questo anche perché nel 2013 la Municipale ha ripreso il turno notturno e oggi rileva il 75% degli incidenti sul territorio comunale. Il numero dei mortali, 4, è il più basso dal 1995, erano 8 nel 2012, diminuiti anche del 4% gli incidenti conferiti. Diciamo che nel nostro territorio il trend degli ultimi anni è stato come quello nazionale tendenzialmente in diminuzione e la cosa più positiva è che sono in diminuzione costante gli incidenti gravi, perché poi è evidente che eliminare del tutto l'incidente sarà impossibile. Noi possiamo costruire una rotonda, evitare l'incrocio diretto dei veicoli, ma la toccata in rotonda è normale che avvenga. Le due violazioni più importanti che la gente commette e che danno seguito al verificarsi di un incidente sono la mancata precedenza di un incrocio e la velocità. Abbiamo avuto una riduzione marcata delle omissioni di soccorso e invece sono aumentate a dismisura le violazioni agli articoli 186 e 187, quindi alla guida in stato di avrezza da alcol e da sostanze stupefacenti. Questo è un aspetto che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo. Abbiamo visto di continuo queste cose e sono veramente situazioni che portano a incidenti gravissimi, perché poi una persona che per il controllo del veicolo diventa di fatto un proiettile. In occasione della festa di Sant'Antonio Abate, oggi davanti al santuario dei Paolotti in piazza Tremarti e Riarimini, è stato proposto il tradizionale gesto della benedizione degli animali domestici. Se nelle campagne ancora si benedicono gli animali di fattoria, in centro storico è stata la volta di cani di taglie e razze diverse, gatti e anche tartarughe. Spiegando l'iniziativa i padri Paolotti hanno detto che la benedizione degli animali non è un atto puerile, ma una manifestazione d'amore verso le creature che vivono insieme a noi. Ai presenti è stato consegnato anche il pane benedetto. Siamo alle notizie dei 100 secondi. Uno spacciatore tunisino è stato sorpreso ieri pomeriggio, mentre nella zona di Via Covignano a Rimini cedeva una dose d'eroina ad una giovane madre con un bambino. L'uomo ha spinto la gente che cercava di fermarlo, rompendogli un braccio, ed è fuggito. Poco dopo è stato rintracciato in casa della compagna, a Viserbe, ed ha nuovamente reagito con violenza finendo comunque in manette. In totale era in possesso di 18 grammi di eroine e a casa aveva una cospicua somma di denaro. L'uomo, già lo scorso 30 dicembre, aveva ferito un agente nel tentativo di impedire l'arresto del fratello implicato nell'operazione Kebab Connection. Sorpreso da una guardia giurata e arrestato dai carabinieri con le mani nel sacco, un 44enne tunisino è stato fermato nella notte in una villetta estiva in via sinistra del porto a Rimini, dove dopo aver forzato la porta sul retro stava rubando alcuni gioielli. Il 44enne lo scorso 10 dicembre era sfuggito alla cattura nell'operazione Kebab Connection. Non si arrendono i lavoratori Valle Verde che questa mattina in assemblea hanno indicato i tre obiettivi per i quali si batteranno. In primis la sostituzione dell'attuale comitato dei creditori con uno più rappresentativo e la garanzia del proseguimento della gestione con l'attuale società Valle Verde SRL, fino al trasferimento al legittimo acquirente. I lavoratori chiedono anche di procedere alle vendite competitive previste dalla normativa fallimentare, privilegiando chi si impegna al mantenimento dell'attuale stabilimento e del livello occupazionale. I carabinieri sono intervenuti ieri in via Roma a Mondaino, dove si trova la nicchia contenente la statua del patrono San Michele. I gnoti, dopo aver forzato la bacheca in vetro, l'hanno portata via. Niente primarie per il candidato sindaco di Bellaria. Il PD ha trovato l'unità intorno a Gabriele Morelli, ex presidente di Aeradre e segretario della CNA. Creerà una lista civica sostenuta dal Partito Democratico. Siamo arrivati al calcio, spero di fare come richiuti, anzi ancora meglio, così vi ricorderete di me. Si è presentato così il 22enne panamense Eric Herrera, arrivato da due giorni a Rimini in prestito dal Lavellino. Vediamo la sua prima intervista da giocatore bianco-rosso. L'impatto è stato positivo anche perché mi hanno preso subito in considerazione, mi hanno trattato bene fin da quando sono entrato in spogliatoio, quindi è stato un grande impatto. Che cosa ti ha fatto scegliere Rimini? Avevi diverse opportunità anche in categorie superiori? Rimini, sì, a parte le offerte che arrivano dalla Lega Pro, ma come ho detto prima, per me, già il fatto che il direttore, il mister e comunque la società mi volevano fortemente, comunque, volevano fare qualcosa di importante qua a Rimini, sono stato ben contento di accettare Rimini, anche perché non ho guardato la categoria, ho guardato solamente la voglia della società di crescere. Quali sono le tue caratteristiche? Sono, diciamo che mi hanno paragonato un po' a Sanchez, quello del Barcellona, un po' rapido, salta l'uomo uno contro uno, rapido, cioè un po' come lui, diciamo. Che cosa ti senti di promettere ai tifosi biancorossi? Prometto che darò sempre il 100% in campo e suderò per questa maglia, questo è quello che promettono ai tifosi Rimini. Alla tue spalle c'è Adren Ricchiuti, altro sudamericano, che ha fatto la storia del Rimini recente e che ti ha fatto tra l'altro anche i complimenti via Facebook. Sì, questo non lo sapevo dei complimenti, lo ringrazio molto, cercherò di fare come lui, sarà un po' difficile diciamo fare come lui, però io ce li metterò al massimo e ci proverò. Grazie a tutti. La presentazione ufficiale agli organi di informazione e ai tifosi lo abbiamo incontrato. Innanzitutto bentornato a Rimini, che cosa ti ha spinto a questo ritorno? Sì, sicuramente mi ha spinto, c'è la voglia di riniziare e poi quando mi è arrivata la chiamata di Rimini non ci ho pensato due volte a dire sì. Come stai fisicamente? Fisicamente sto bene, stavo facendo allenamento a breccia con la centrale Latte e sto bene. Adesso vediamo già domenica come è, perché se mi manca questo fuoco di partita è quello che mi manca. Manca un po' il ritmo partita perché non giochi da più di due anni? Sì, è da due anni e qualche mese che non gioco, quindi il ritmo di partita comunque devo trovarlo. Che squadra hai ritrovato? Hai trovato qualche vecchio compagno come Germa Scherone, è appena arrivato anche lui tra l'altro e poi tanti giovani diversi da quelli che avevi lasciato? Sì, sicuramente l'ho trovato Germa, mi ha fatto tanto piacere ritrovare Germa e poi ho ritrovato anche Norma San e Raffaele Bosso che abbiamo giocato insieme nel mio ultimo anno giovanile qua a Rimini nei Krebs. Tanto il primo anno sono arrivato a Rimini nel 2008-2009. Invece Rimini come l'hai ritrovata visto che mancavi da un po'? Rimini, appena sono arrivato in città, ho fatto le visite, l'allenamento, dopo sono andato a casa e c'era una folla di amici che sono venuti a trovarmi. Sono stato contento anche per questo. Domenica subito uno scontro salvezza, dopo 8 K di fila c'è Lugo di Ruini, quindi per te è subito straordinario? Sì, mi hanno un po' fatto capire che quello che più punti ha nelle mani della squadra belsaria è quello che mi dovrò fare cura di lui. Speriamo di farlo sia limitato il più possibile. Era il nostro ultimo servizio, grazie a tutti voi dell'attenzione. Vi lascio come sempre al meteo dalla redazione. Buona serata.